a tutti piacciono i cibi alla griglia appena fatti ma come si attaccano e chi piace questo disastro lo stesso succede con il forno le vivande lasciano la teglia così sporca ma adesso c'è una soluzione ti presentiamo handy bros le innovatrici lamine antiderenti per cucinare nel barbecue e nel forno che lasciano la griglia e la teglia perfettamente pulite e guarda i segni della griglia continuano a rimanere perfettamente marcati nei cibi la handy rose nera è ideale per il barbecue e la handy rose di colore beige è ideale per il forno realizzata in tessuto di fibra di vetro è ideale per uso alimentare per la sua elevata conduttività trasmette molto bene il calore a tutto il cibo in modo riforme e i segni della griglia appaiono come se gli elementi fossero stati in contatto diretto con la griglia ed è completamente antiaderente guarda come è facile girare il pesce con handy rose persino questo attaccaticcio formaggio fuso si pulisce con una sola passata inoltre resiste a temperature fino a 260 gradi e si può utilizzare tutte le volte che ne hai bisogno grazie alla sua grande durabilità puoi aggiungere le tue salse preferite alla carne alle costolette alla griglia al pollo stile buffalo chicken non cade più niente tra gli elementi della griglia dimenticati delle fiammate handy rose le ferma così i cibi non si bruciano e tu non ti scotti le griglie dei campeggi e delle aree di picnic sono molte antigieniche con handy rose potrai cucinare bene i cibi senza che tocchino la griglia questi biscotti si sono attaccati alla teglia mentre con handy rose scivolano facilmente il pane e i dolci escono dallo stampo senza attaccarsi senza difficoltà pronti per essere serviti le pizze si cuociono in modo perfetto e con i segni della griglia grazie alle dimensioni extra grandi handy rose può essere tagliata alla misura e alla forma che ti serve si adatta a qualsiasi forno barbecue inoltre essendo antiaderente si pulisce facilmente con un panno umido oppure se preferisci in lavastoviglie consegue adesso la tua handy rose usa la lamina nera per la griglia del barbecue e la lamina beige per i tuoi piatti al forno acquista usa subito la tua handy rose